E buonasera, buonasera a tutti, è tardanotte, è tardanotte, sono uscito il sabato sera, sapete com'è, si fa tardi, sono uscito dopo la partita Parma-Inter, una partita che ci è andata benissimo amici miei, benissimo, tre punti che valgono sei punti, fino al gol. Io non mi sentivo nemmeno bene, praticamente avevo bisogno di qualcosa, abbiamo bevuto anche del gin, figuratevi dopo che, che non so, che ecco ci voleva, tachipirina, tachipirina, esome prazzolo, per lo stomaco, pure questo, mettiamoci questo, mettiamoci quest'altro, che è una farmacia, ma che è una farmacia, cioè insomma praticamente. Lo stomaco stava a pezzi, perché durante il primo tempo abbiamo fatto sempre la solita pena, cioè il solito giropalla, sembrava che nulla fosse cambiato. Poi, ecco che subentra il DNA della squadra dell'Azzurra, il secondo tempo, abbiamo iniziato in un modo diverso, c'era sempre una sfissia dell'attacco, ma premevamo di più, dopo che Gervinio ci aveva graziato il primo tempo con la traversa. Lo abbiamo premuto, 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 poi arriva il gol di D'Ambrosio che, purtroppo a me, aveva toccato col braccio, non si può dire niente, però ci ha fatto fare una esultanza di due minuti, poi no, 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 no. E' un'attacco che Lautaro risolve, toglie le castagne dal fuoco. E siamo sempre lì. Poi, l'attacco asfittico, come al solito, unicardi imbarazzante ancora una volta, ormai sono messi. Che cosa dire? Se vogliamo vedere il bicchiere mezzo pieno, diciamo che, nota positiva, devo dire, dopo averlo criticato, io l'ho anche chiamato Nalcolan, invece di Nalcolan, Nalcolan, però devo dire, per onestà intellettuale, che questa partita, questa sera, Nalcolan è stato il migliore in campo. Ha tirato, ha lottato su ogni pallone, ha corso, ha dato l'anima e si è meritato la palma del migliore in campo. Ovviamente, punti positivi, pure Lautaro, perché ha segnato questo gol importantissimo, la difesa, come al solito, un baluardo quasi perfetto. Per il resto, le solite balbuzie a centrocampo, il peggiore in campo, sicuramente, c'è Mario, che non è né canne né pesce, non è né centrocampista, né trequartista, né difensore davanti alla difesa, né ala, non è... è un giocatore di una mediocrità, assoluta. C'è da dire anche Perisic, devo dire la verità anche stasera, nonostante che sia indestradito a fare solito e finito, solito finito a sinistra, che non porta mai a nulla, se non a qualche calcio d'angolo, devo dire che però si è dannato e si è dato l'anima. Beh, Sparretti ha salvato la panchina, per il momento, mi auguro che sia la svolta, mi auguro che sia la svolta. Punti importantissimi, lasciateci godere questa vittoria, lasciateci godere questi tre punti, lasciateci godere il nostro terzo posto consolidato per questa giornata. Poi vedremo domani le altre, che cosa faranno. Già il Napoli, con un po' di sfortuna, devo dire la verità, ha pareggiato, ma con sfortuna, veramente sfortuna. Vedremo la Juve, vedremo il Milan, vedremo l'Atalanta, vedremo le altre, va bene. Quindi a domani e finalmente una gioia, finalmente. Ciao a tutti.